Matteo De Santi, categoria Regular Man, October Challenge 2023, Wood 1 Allora, facciamo vedere tutte le misurazioni Uno Più Uno Ci siamo tenuti anche larghi, quindi due metri qua Due da qua, di nuovo sono quattro mattonelle Quindi questa è la distanza, quella è la distanza Dumbbell da 22,5 E box altezza uomo Usuriamo? Eh no, ci sta 60 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 61 62 62 63 63 63 64 64 64 64 65 65 65 67 66 67 68 68 68 69 69 69 68 69 69 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, Matt, gira diverso di me un pochino di qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, bravo Mattè, vai, 1, 2, 3, Mattè bene, 4, bravo, 4, eh, vai Mattè, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 4, 4 minuti, eh, vai subito, vai, altri 4, Mattè parti, 5, 6, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, vai Mattè, bravo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 5, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, Cinque e diciotto, dai Mattè. Vai sotto, eh. Uno. Due. Tre. Dai Mattè. Quattro. Cinque. Un minuto, Mattè, dai, quello che c'hai. Un minuto adesso, Mattè. Spara, spara, spara. Uno. Due. Tre. L'ultimo, Mattè. L'ultimo, Mattè. L'ultimo e parti subito qui fronte. Spara tutto, Mattè. 40 secondi, dai. Uno e vai qui fronte, dai. Uno, vai, fronte. Adesso spara tutto, Mattè. Sistema bene i dumbbells, un po' più dritti, dai. Due. Tre. Mattè bene i dumbbells. Vai così, dai. Quattro. Cinque. Ancora quattro, chiudi sto giro, Mattè. Sei. Dai, dai, dai. Sette. Dai, altri due spari i barbis. Dai, 10 secondi. Otto, dai, Mattè. L'ultimo. Dai, mori qua. Mori qua. Dai, adesso, adesso, adesso. Vai tutto, Mattè. Uno. Due. Due. Stop. Dai, dai. Non male, eh. Matt, vedi tu che devi spingere qua, perché il tempo è finito. No, no, non voglio toccare nulla, perché. Aiutatela. Ok, fatto, eh. Abbiamo spinto, eh, Mattè. Grazie. Guarda, io non sto toccando nulla. Abbiamo spinto stop. Non so, lui lo fa qui. Io non so come si fa qua, vai. Basta, ora rimane così. E poi? E poi? Può essere per questo stampato sul ruolo fotografico. Allora. Lo dico subito.